Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Come vedete qui davanti, ed è una felicità disumana perché è un pezzo della storia di noi tutti, Borgamer, vi presento la nuova edizione di Brivito a cura di grandi giochi, in questa nuova riedizione di un gioco che ha fatto la storia della nostra infanzia, anni 80-90, e che qualsiasi giocatore di tabletop, di giochi da tavolo, lo avrà sicuramente provato perché era un titolo che durante la nostra infanzia, che va dai 30 ai 40 anni, la mia età ad esempio, era molto gettonato e di solito, di solito dato dal Milton Bradley, in tutte le case dove si trovava Brivido si trovavano di solito anche HeroQuest e StarQuest. Infatti nel mio gruppo d'amici avevamo appunto questi tre giochi e magari ogni tanto ci scappava anche la partitina ad hotel, ma Brivido era sempre il capo della banda. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Brivido è un gioco molto semplice laddove, come nella maggior parte dei giochi anni 80-90 della Milton Bradley, il regolamento era scritto direttamente dentro la scatola, dentro il coperchio. Toglievate il coperchio superiore e dentro proprio c'era scritto il regolamento, ma anche perché erano tre regole in croce. Ci andavamo a calare nei panni di un gruppo di ragazzi o investigatori molto giovani dell'occulto in questo castello infestato ed era molto bellino come gioco perché ricordava da vicino, volendo anche un po' l'isola di fuoco. Le meccaniche bene o male erano quelle. Si andava a tirare un dado, si spostava la nostra miniatura di tanti passi, quanto era uscito il risultato sul dado, non meno non di più, ma l'esatta cifra che usciva sul dado da 6 e spostandolo potevano capitare delle cose perché quando si finiva su delle caselle rosse si faceva cadere, premendo la testa del fantasma, si faceva cadere una pallina che poi poteva cadere, appunto come nell'isola di fuoco, in varie direzioni. Poteva far girare la scala dove eravate oppure poteva cascare sull'alabarda dell'armatura del cavaliere posseduta da uno spettro, da un poltergeist che calava giù e ci dava un colpo d'alabarda e ogni volta che comunque il nostro personaggio, il nostro alter ego, veniva colpito si doveva tornare tante caselle indietro fino alla fine della zona rossa. Lo scopo del gioco era quello di riuscire a scappare dal castello arrivando per primo, perché qui vinceva soltanto una persona, ogni volta che succedeva qualcosa del genere era data la possibilità di far scattare una trappola oppure cercare di fare anche una specie di piccolo sabotaggio contro gli altri giocatori e fu un gioco che era molto interessante come concetto al tempo perché intanto avevamo una mappa completamente in 3D, come state vedendo a video in questa nuova edizione e con questa mappa interamente in 3D era anche facile immedesimarsi perché non era, ad esempio, la mappa di HeroQuest dove non c'erano muri, non c'erano pareti però anche i macigni che cadevano erano token in cartoncino però va bene, comunque c'erano le porte, la mobilia e già HeroQuest faceva del suo tanto però questa era proprio tutta quanta la mappa in 3D perché sava veramente le mura del castello sapevano addirittura, come vi ho detto, il cavaliere con l'alabarda, la scala e tutta quanta la torre centrale fatta in plastica era veramente interessante anche l'idea di poter tagliare quando si arrivava nella casella della libreria la libreria si spostava, come in tutti i racconti gotici, un po' piccoli brividi o anche film horror da ragazzi si spostava facendo vedere che in quella direzione c'era un passaggio comune, un passaggio segreto e quindi si poteva tagliare per arrivare comunque alla meta finale quindi il primo che ci arrivava aveva vinto la partita era un gioco molto interessante, c'era un'alea disumana, disumana, disumana perché lì era veramente tutto il tiro del dado però era veramente carino e non vi nascondo che quando ero piccolo magari avevo 9-10 anni, ma anche 8 e questo gioco già era presente mi ricordo che giocavamo sempre al buio con le luci un po' soffuse magari guardandoci qualche cassetta della Disney come tipo la storia di Icabod Crane che era veramente spettacolare, il cavaliere senza testa e mi faceva anche abbastanza paura questo gioco non ve lo nascondo, quando vedevamo passare un'ombra sulla parete e tutto c'era anche il momento un pochino della pelle d'oca classica e quindi era anche un gioco che mi ricorda tantissimi bei momenti e sono convinto anche a voi in conclusione, questo brivido nella nuova edizione di Grandi Giochi è una versione, secondo me, rifatta a dovere per tutti gli amanti di quello vecchio addirittura anche la grafica rinnovata sì, i personaggi sono sempre in cartoncino, però comunque anche la grafica è rinnovata i tiles sono rinnovati, i disegni e tutto quanto e come avete visto durante il corso del video è la scatola stessa che fa da tabellone che è una cosa che mi piace e non mi piace mi piace perché Bellino chiudi questo, lo porti via ed è tutto lì però non mi piace perché se si rompe la scatola non c'è ristampare il tabellone, dovete ricomprare tutto perché è fatto tutto a norma per cui si vadano ad incastrare i vari pezzi quindi massima attenzione per la scatola non la strappate perché rovinate il tabellone di gioco e poi, l'avete visto, la scatola si apre ci andate a mettere tutte quante le cose ed è proprio la stessa area di gioco del castello infestato bellissima questa nuova edizione o ne lo trovate in tutti i toy center oppure lo trovate spesso in vendita e in offerta anche direttamente su Amazon vi lascio comunque il primo link in descrizione ed è una figata disumana per tutti i vecchiacci come me concedetemelo amanti dei giochi della Milton Bradley questa nuova edizione che ci riporta indietro di 30-40 anni o anche per i neofiti o chi non l'ha mai provato volete fare un bel regalo di Natale a vostro figlio? per fargli fare un gioco divertente da fare in famiglia magari dopo i pranzi di Natale e vi fate delle belle risate brivido è perfetto ciao ragazzi, alla prossima!